In una città oltre l'orizzonte, tra le colline al di là del mare... Salve, signora Quine. Starò via solo un paio d'ore. Conrad e Sally Walden, costretti in casa, ascoltano le regole da rispettare. Niente videogame e se rispondi al telefono non dire obitorio e assolutamente nessuno metta piede in salotto, altrimenti... La mamma però è appena uscita, che subito a giocare c'è chi l'invita. Ma tu chi sei? Ti, io, io sono il gatto col cappello. Palla di pelo. Svagometro? Sì, misura la vostra simpatia. Siete entrambi messi male. Tu sei un'autoritaria pignola e tu un ribelle. Che dobbiamo fare? Non possiamo entrare in salotto. Mi fa piacere la compagnia! Smettila un po'! Ma il pesce parla! Ma sta dicendo cose interessanti? Eh no, non mi sembra. Cristo, l'avevo detto che vi sareste divertiti! Incuriositi? Non aprire questa cassa. Inizieranno un magico viaggio. Fichissimo! Lascia guidare il giovane Carlatt! È bellissimo! Fatto di allegre risate... C'è un gatto qui dentro? ...di avventura e tanto coraggio. C'è l'anima! È troppo! È troppo! Stavolta i topi ballano quando il gatto c'è. Ma poi saranno gatte da pelare! La madre di tutte le barahonde. Mike Myers! Devi pulire e rimettere a posto. Adesso ci provo! Tu non ci provi. Tu fai. Sì, padrone. Il gatto.